Ben trovati ad un nuovo tutorial firmato FabioAmbrosi.it, questo è il corso introduttivo ad After Effects ed è l'ultima lezione dedicata ai tasti di scelta rapida di After Effects. È importante impararli a memoria perché con i tasti di scelta rapida, come abbiamo visto fino ad ora, si fanno molte operazioni in After Effects, più di quelle che si fanno in Premiere Pro. Quindi, se volete imparare a padroneggiare After Effects, è imprescindibile imparare a memoria i tasti di scelta rapida. Questo è un corso introduttivo ad After Effects, quindi non troverete lezioni su grandi effetti, li faremo magari in un corso avanzato. Se non avete mai messo mano ad After, questo è il corso che fa per voi. Se avete perso i primi video tutorial, li trovate su questo canale YouTube, tra le playlist. Se volete leggere gli articoli sul corso base di After Effects, www.fabioambrosi.it. La pagina Facebook Fabio Ambrosi è dove trovare tutti gli aggiornamenti sui tutorial che verranno, che ci sono stati, e sulle varie iniziative che faremo nei prossimi mesi. Bene, basta così, continuiamo. Parliamo ancora dei tasti di scelta rapida da utilizzare in After Effects. Quest'oggi vedremo come muovere i livelli, come dividerli, come manipolarli. Nelle scorse lezioni abbiamo visto come lavorare nella composizione, come spostarsi nel tempo. Quest'oggi vedremo come modificare fisicamente i livelli. Cominciamo subito. Prima combinazione, CTRL più freccia su, oppure CTRL più freccia giù. Cosa fa questa combinazione di tasti? Ci permette di muoverci fra i livelli in alto o in basso. Ipotizziamo di avere tanti livelli in una timeline, con i tasti CTRL freccia su e CTRL freccia giù ci muoviamo tra i vari livelli, uno alla volta. CTRL più Y ci permette di creare un livello a tinta unita. CTRL Y apre la finestra per creare un nuovo livello a tinta unita. Ancora, CTRL più ALT più Y. Questa combinazione ci permette di creare un livello di regolazione. Se abbiamo un livello con dei keyframe inseriti, come nel caso dei primi due livelli, utilizzando il tasto U di Udine possiamo visualizzare i keyframe inseriti all'interno del livello. Altri due tasti da imparare, il tasto I accentato e il tasto U accentato. Li vedete nella sovraimpressione qui sotto. Il tasto I accentato sposta il livello in modo che l'inizio sia al tempo corrente. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo è un livello, ok? Chiaramente ha un inizio. Eccolo qua, l'inizio avviene con questa strada. Poi c'è una panoramica e si vede questa ragazza che arriva. Se io per esempio vado al secondo numero 2 della mia timeline, ok? Ipotizziamo di voler spostare questo livello in maniera tale che l'inizio cada esattamente su questo fotogramma. Come fare? Seleziono il livello, premo il tasto I accentato e vedete che il livello fisicamente si sposta, ok? Si sposta in maniera tale che il suo inizio coincida con la testina di riproduzione. Stessa cosa ma con la fine. Questo livello è abbastanza lungo. Vado alla fine. Anzi, facciamo subito che applico il tasto. Il tasto U accentato sposta questo livello in maniera tale che la fine coincida con il livello di riproduzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo livello finisce con la panoramica, la ragazza che corre e arriva verso quella scala. Io voglio fare in modo che la fine di questo livello sia esattamente in questo punto temporale. Premo la U accentata e il livello si sposta in maniera tale che la sua fine coincida con il punto, con il fotogramma in cui si trova la testina di riproduzione. Tasto U accentata. Ancora, tasti sempre I e U accentati ma con in aggiunta il tasto Alt. Che cosa fanno? Fanno la stessa cosa ma senza muovere il fotogramma. Mi spiego. Alt più I. Vedete? Trimma il fotogramma in maniera tale che inizi in questo punto. Ma non sposta il livello. Il livello resta fermo. Quello che accade è che noi lo tagliamo e lo facciamo semplicemente iniziare da questo punto. Tasto Alt più U accentata. Stessa cosa ma con un output. Tagliamo, trim, questo livello in maniera tale che finisca esattamente su questo fotogramma. Quindi i tasti I accentato e U accentata ci permettono di spostare fisicamente il livello all'inizio e alla fine. Alt più I accentata, Alt più U accentata non spostano il livello. Semplicemente ci permettono di tagliarlo. Ok? Fate delle prove e vedete che è molto più chiaro e semplice di quello che potete immaginare. Ancora, tasti CTRL più A. Questo è semplice perché vale per tutti i computer praticamente. Ci permettono di selezionare tutti i livelli. Ok? Ancora, selezioniamo un livello. Il primo su cui stiamo lavorando. CTRL più D di Domodossola. Duplichiamo il livello. Quindi abbiamo una copia esatta del livello che abbiamo selezionato. Ancora, CTRL più SHIFT più D. Questo è importante, segnatevelo. Questo lo utilizzerete spessissimo. CTRL più SHIFT più D. Il livello viene duplicato ma viene anche diviso. Guardate, CTRL più SHIFT più D il livello viene duplicato e il video viene splittato esattamente nel punto in cui ci troviamo. Questo può essere utile e lo vedremo più avanti quando per esempio dovremo applicare degli effetti da un certo punto in poi del nostro livello. Ancora, ipotizziamo di volerci muovere al livello numero 15. Possiamo cercarlo, selezionarlo. Ma se io sul tastierino numerico scrivo 15, ecco che automaticamente il livello 15 viene selezionato. Livello 1, premo 1. Livello 2, premo 2. Livello 3, premo 3. Livello 11, digito 11. Ancora, ALT più PAGE UP, ALT più PAGE DOWN. Questo è molto utile perché ci permette di spostare il livello avanti di un fotogramma alla volta o indietro di un fotogramma alla volta. Avanti con ALT PAGE DOWN, indietro con ALT PAGE UP. Se a questa combinazione aggiungo lo SHIFT muoviamo di 10 fotogrammi alla volta. Avevamo visto il PAGE UP, PAGE DOWN per muoverci avanti e indietro senza premere nessun altro tasto. Se aggiungiamo ALT spostiamo il livello, vedete? Se aggiungiamo lo SHIFT spostiamo il livello, SHIFT più ALT ovviamente, spostiamo il livello 10 fotogrammi alla volta. Ancora, se avete un video con dell'audio, premendo il tasto L due volte, rapidamente, LL, possiamo previsualizzare la forma d'onda. Quindi LL, rapidamente, previsualizziamo la forma d'onda dell'audio. Solo il tasto L abbiamo alcune impostazioni, alcuni parametri per quanto riguarda l'audio. Oh, ipotizziamo di voler modificare l'area di lavoro, questa qui per intenderci. Tasto B di Bologna, N di Nuoro, B per inserire l'IN, da dove far iniziare l'area di lavoro, N per impostare l'OUT dell'area di lavoro. Quindi B ed N. Ancora, per ingrandire un pannello a schermo intero, utilizziamo l'apostrofo. L'apostrofo ci permette di ingrandire un pannello a tutto schermo, così che possiamo lavorare comodamente con i livelli se abbiamo poco spazio. Ripremendo l'apostrofo, torniamo tutto come era di default. Ancora, i tasti più e i tasti meno. Il tasto più ci permette di zoomare all'interno della timeline, il tasto meno ci permette di rimpicciolire la nostra timeline. Oh, sono tanti i tasti da imparare a memoria. Io vi consiglio di utilizzarli tanto per assimilarli. Ovviamente abbiamo già visto, e non li ripeto, i tasti S, R, P, T, per abilitare alcuni parametri utili, tipo la scala per la rotazione, la T per l'opacità, la P per la posizione, l'abbiamo già visto nei tutorial precedenti, quindi non lo ripetiamo. Mi fermo qui, credo che sia già tanta carne al fuoco. Sul sito fabbiambrosi.it c'è l'articolo con tutti questi tasti scritti, quindi non vi preoccupate se non ve li ricordate. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi a questo canale YouTube, condividete il video con i vostri amici, mettete un like, commentate per domande, e ovviamente mettete un like anche alla pagina Facebook Fabio Ambrosi per avere tutte le informazioni sui prossimi video tutorial. Il corso introduttivo ad After Effects continua, non vi preoccupate. Al prossimo video tutorial. Ciao, grazie!